ok proviamo a vedere adesso come aggiustare un po' le meshe allora, quello che succede adesso è che questo signore se voi andate davanti e dietro ha un'ovimap che mappa sia la parte avanti che la parte dietro con la stessa texture noi quindi dobbiamo andare in edit mode quindi edit mode qua, selezionare quindi con 3 ad esempio solo la parte dietro, quindi facciamo alt A ed evidenziamo praticamente magari in modalità Z vedendo anche tutto il retro e selezioniamo tutta la parte che non vogliamo che segua quel principio quindi selezioniamo tutta la parte di dietro della mesh e questa parte della mesh la vediamo quindi la vediamo di 1, vediamo la fronte mi sembra che sia shift 1, control 1, control 1 vediamo il retro ora, questa parte qua che vedete che adesso è mappata qua la possiamo con G spostandosi qua, G e spostare tutta questa parte in un'altra parte dell'immagine e qui possiamo fare S in maniera tale da farla sembrare un pochino più strana quindi adesso abbiamo la parte dietro che è mappata su una parte dell'immagine che potrebbe essere un pezzo del corpo però potrebbe essere anche da guancia io l'ho messa qua perché c'è più o meno un po' di roba c'è un po' di roccia e visto che la parte dietro è mappata lì ma la parte davanti continua ad essere mappata sulla faccia quindi nel momento in cui andiamo così vediamo che di fronte è mappata con la texture della fronte e il retro è mappato in un modo come vedete un po' più diverso, differente e quindi riusciamo ad ottenere praticamente questo effetto se volete ottenere un effetto un pochino più vago e se notate che tra l'altro per riuscire a fare tutto questo ho comunque fatto già un decimate che è saltato nella registrazione quindi ricordate di farlo ma possiamo comunque andare in texture paint vedete che siamo in texture paint e mentre siamo in texture paint possiamo anche usare questo qui smear che è un pennello che praticamente rende un pochino più vedete che sposta un po' e rende un pochino più più smonto insomma un pochino più strano insomma le parti che magari a noi creano un attimo di perché abbiamo costruito in maniera artificiosa quindi le rendiamo un pochino più sfumate quindi costruendo in questo modo abbiamo anche la fronte e rimane inalterata mentre il retro invece lo pasticciamo un po' insomma o per ottenere un effetto neutro qui tra l'altro usate lo smear nel modo che vi sembra più congeniale oppure potete addirittura prendere un'altra immagine quindi eventualmente anche segnare un altro materiale che abbia la texture che vi interessa comunque la conclusione alla fine abbiamo una cosa già abbastanza credibile cioè una faccia che di fronte ha esattamente la texture che ci interessava e il retro che non è la stessa faccia rovesciata ma è un qualche cosa di neutro che quindi è comunque già un pochino presentabile quindi a questo punto quello che rimane poi da fare per spostarlo su e tra l'altro vedete che ha ottenuto proprio un'immagine questa immagine qua è proprio un pezzo che ha cambiato la texture quindi questa immagine qua è cambiata quindi questa immagine se volete usarla in open sim dovete scaricare questa immagine che è cambiata quindi fare file, save as e usare questa immagine per come immagine di appoggio su cui appoggiare questa faccia quindi è molto bello che lui abbia modificato la nostra immagine in modo tale che noi possiamo metterci quello che vogliamo se poi volessimo ancora lavorarci con Gimp su questa immagine possiamo anche aggiungere qui l'immagine che vorremmo che sia presentata allora questo è tutto quindi il ciclo di tre video quindi nel primo abbiamo visto come modificare semplicemente un cubo per arrivare fino alla forma più o meno della testa e applicarci la texture poi abbiamo fatto un po' di subdivision surface in modo tale da farlo un pochino più cilindrico come questo nel secondo video siamo andati in modalità sculting e abbiamo seguito la texture aumentando il numero di vertici per ottenere un effetto di scultura e nel terzo video questo qui che state vedendo siamo andati a correggere la texture perché la texture se no sembrerebbe un pochino molto stramba e molto poco credibile è tutto buonasera grazie